E in alto si avrà tutte le piastrine che va, che si avrà visto che c'è un'anziana che cade giù. Quindi dovete stare attenti quando camminate. Eh sì, eh sì. Pioggia di calcinacci dalla facciata condominiale con residenti e passanti a rischio ogni volta che attraversano quel cortile. Accade a Mestri e lungo le case Ater di Via Ponti. L'acqua che viene giù, poi, vedi, siamo ben trappai. Al quartiere Pertini di Mestre oltre 300 famiglie mobilitate in delegazione con alcuni rappresentanti e cartelli. Noi residenti di serie A e serie B vogliamo il completamento dei lavori. Per chiedere appunto il completamento dei lavori degli appartamenti, oltre 320 le famiglie, si diceva, per quanto attiene ai lavori del risparmio energetico. Qui i residenti terrorizzati dal potenziale pericolo quotidiano dovuto al rischio caduta calcinacci in cemento armato si stanno organizzando nel caso loro malgrado si trovassero costretti a fronteggiare eventuali improvvise emergenze. Vede un pericolo, chiama, gli addetti al pericolo, i pompieri, la polizia, i vigili del fuoco, chi serve? Vengono qui, abbattono le parti pericolanti e poi chiamiamo l'edilizia che se li porti via. Il malcontento e la mobilitazione odierna per lo stop da oltre due mesi alla riqualificazione della classe energetica dalla F alla B per tutte le case marroni del Pertini. È proprio una questione di dignità umana secondo me, perché viviamo, cioè io abito qua sopra, le finestre non si chiudono, si parla tanto di case green, però quando c'è vento in queste giornate che c'era vento? Le tende sventolavano, ho la persiana del poggiolo che è caduta giù, l'ho rattoppata io, la muffa perché le due pareti esterne sono a nord e quindi ho la muffa dentro il portascarpe, i muri che si sgheretolano. Ad oggi una quarantina, gli alloggi riqualificati grazie al super bonus, ma i soldi sono finiti, dice oggi il presidente della municipalità. La data non si può fissare, si può soltanto fissare l'impegno di insistere e portare avanti questa richiesta che è importante, ricepire i fondi per poter proseguire. Chiediamo al comune di non lasciare una scarpa e un socco, come si dice a Venezia, ma di completare i lavori con la ristrutturazione degli appartamenti ancora mancanti.